Grazie, signor Presidente, per darmi l'opportunità. sulla quale il primo ministro si era ripromessa di non voler scendere a compromessi. Barnier è comunque aperto nei giorni scorsi ad una chiusura dell'intesa entro metà novembre, concedendo tempi supplementari per la ratifica dell'accordo. Tutte le ipotesi sono ancora aperte, nonostante non di Teresa May all'idea di organizzare un secondo referendum, i sostenitori della linea dura incoraggiati da Johnson potrebbero far saltare Jackers e sfiduciare il primo ministro. Grazie.